Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a tutti. Questa è la rassegna stampa di Fano TV, Occhio e Giornali. Tra poco commenteremo alcune pagine che ho selezionato per voi questa mattina chiaramente il tema sarà soprattutto il Green Pass, sarà soprattutto la manifestazione che c'è stata che era in programma ieri, parleremo di questo tra pochissimo. Adesso il Santo del Giorno, oggi è Sant'Elpidio, un santo che sicuramente nel IV secolo aveva base qui nelle Marche, il suo culto è particolarmente vivo nel Piceno, siamo nella parte di Ascoli-Piceno dove tra l'altro alcune cittadine portano proprio il nome di questo santo, Sant'Elpidio a mare per esempio, Sant'Elpidio Morico, Porto Sant'Elpidio. L'alba alle 6.33, il tramonto alle 19.44. Uno sguardo veloce al tempo, siamo sul sito della Protezione Civile delle Marche, tutta la regione come vedete questa mattina è interessata dal sole, domani invece un po' di nuvole con stratificazioni e nuvole medio-alte, per quanto riguarda invece il weekend abbiamo ancora un po' di nuvole sulla costa, qualche pioggia sui monti sibillini, deboli piovaschi, ma insomma niente di che, chiaramente l'alta pressione dal Nord Africa verso la Spagna per i prossimi giorni verso Levante determinerà condizioni stabili e soleggiate anche sull'Italia con correnti settentrionali che interesseranno le regioni adriatiche, vedremo comunque insomma nei prossimi giorni se il bel tempo continuerà, l'estate fino al 21 di settembre prosegue. Allora andiamo adesso a vedere i giornali, facciamo un bel respiro profondo e cominciamo a dare un'occhiata ai titoli di questa mattina, che chiaramente sono tutti di una stessa, vanno tutti in una stessa direzione, la parola del giorno è flop. Allora andiamo a leggere il resto del Carlino, il resto del Carlino la fotonotizia la dedica alla stazione di Pesero, come vedete deserta, soltanto due agenti di polizia, ieri in realtà ci si aspettava una partecipazione di massa con tanto di blocco dei treni e quant'altro, insomma queste erano le previsioni anche dell'intelligence, dell'intelligence che si è dimostrata poco intelligence, ma comunque i contestatori disertano, stazione senza manifestanti, poi l'annuncio oggi ci saremo, ma chiaramente è a vuoto. Prof Novaks invece chiamano i carabinieri, volevano entrare pur non avendo il certificato verde e a fanno una maestra crea il caos all'asilo nido. Velocemente le altre notizie dalla prima, cassonetti incendiati in via Vaccai, in altre zone della città di Pesero, cassonetti incendiati a ripetizione, protestano i residenti. A Gabiccia invece, a Gabiccia e Mare, arrivano altri profughi afghani, sono una ventina. In palestra senza Green Pass però c'è chi fa il furbo, tensione e polemiche. L'arresto evade dai domiciliari e guida ubriaco in autostrada e poi la sede dell'ex Banca d'Italia a Pesero, la Ratti si sfila e dunque non lo vuole più quell'immobile, si tira indietro e dunque si riapre la partita. Mentre sotto, sempre dalla prima del Carlino di Pesero, abbonamenti VL via la campagna, capiezza al palazetto, insomma al palasporto al 35%, si va anche in gradinata e poi il campo da basket, intitolato a Mattioli, parliamo del campo da basket di Villa San Martino. Il Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico di Pesero, Green Pass, prova superata, primo giorno a scuola senza intoppi, ma i sindacati hanno dubbi sulle linee guida, i presidi troppo soli, personale impiegato per i controlli, in pochi con i tamponi, caso educatrici in 25 senza certificazione. Chiaramente anche questo meccanismo che ieri ha debuttato per la prima volta, ieri primo settembre, insomma bisognerà vedere quanto durerà, quanto la scuola, una volta che poi arriveranno anche gli studenti, tutto quanto, insomma quanto potrà durare tutto questo? Io non credo molto. A un certo punto poi si comincerà a chiudere un occhio, poi se ne chiuderà due, come si fa anche nei ristoranti, nei ristoranti non è vero che controllano il Green Pass, e meno male, direi che questa è una cosa piuttosto logica e intelligente per non andare a esasperare ancora di più gli animi, anche perché, ripetiamo, il Green Pass è semplicemente qualcosa che riguarda, è un atto burocratico, non c'è niente, non metti a rischio e repentaglio nessuno, obbligo sui treni, flop della protesta, questo invece è la fotonotizia del Corriere Adriatico. Come dicevamo allora, dicevamo allora di questa protesta di cui scrivono i giornali ampiamente all'interno delle loro pagine, ma andiamo a vedere velocemente anche, sempre dalla prima, le notizie in breve. Allora c'è a Pesaro un campetto di basket che appunto verrà intitolato a Mattioli, arbitro indimenticato, mentre a Fano, torrente inquinato, parliamo del torrente Arzilla, i bagnini vogliono conoscerne la causa, mentre dalle Marche, sorpresa per la Svem, l'unico curriculum è arrivato da Vittoriano Solazzi. Poi 2.000 interventi arretrati, parliamo di sanità ancora, si opera anche il sabato, piano sperimentale dell'azienda Marche Nord a Pesaro per abbattere le liste d'attesa della pandemia. E poi Covid Hotel, Agabice, in arrivo altri 20 profughi. Ora la pagina invece del resto del Carlino, cade dal tetto, grave una bimba di 5 mesi, dramma genga, i genitori l'hanno trovata a terra priva di sensi, disperata corsa in auto all'ospedale. E poi invece a centro pagina, ecco qua, minacciato dai Novax, Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia, oggi consigliere comunale all'opposizione del Partito Democratico, finisce nel mirino dei Novax. Un colpo come a Kennedy, questa è la minaccia, il candidato governatore del centro-sinistra resta in prima linea, non sarà un messaggio social a fermare la mia battaglia, tolleranza zero con certa gente. Ora, non farò il politicamente corretto, perché hanno stufato anche questi politicamente corretti che cominciano i soliti discorsi dicendo la violenza, no, per su, per giù. È chiaro, siamo tutta gente di buonsenso, quindi la violenza non sta bene da nessuna parte, ma caro Maurizio, ti stimo, ci conosciamo, ma voglio dire, ti sei guadagnato la prima pagina del resto del Carlino Edizio di Ancona. Se vuoi ti faccio vedere le mie di minacce che mi arrivano non dai Novax, ma dai Sivax, quelli che mi augurano la morte, di finire intubato in terapia intensiva, per tutte le mie idee. E io dico la stessa cosa, non sarà un messaggio a fermare la mia battaglia. Però, voglio dire, non faccio i servizi su di me e mi piango addosso perché mi arrivano i messaggi che mi augurano la morte. Quindi, voglio dire, lasciamo perdere. La Lega vota, questa è un'altra pagina che ho selezionato dal resto del Carlino, la Lega vota contro il Green Pass. Cosa fa l'ETTA del Partito Democratico? Fuori dal governo. Alla Camera il carroccio si schiera con Fratelli d'Italia e Dex e Movimento 5 Stelle, Salvini rilancia lo Stato, dia i tamponi gratis. Cioè, questa è l'Italia. L'ETTA, con il suo Partito Democratico, che non ha vinto nessuna elezione, almeno così mi risulta, in Italia, adesso cosa fa? DETTA legge e vuole che la Lega, che invece le ha vinte le elezioni, vada fuori dal governo. Questa è l'Italia. E di questo dobbiamo tener conto quando parliamo appunto del nostro paese. Un paese strano, un paese che è al contrario. Il flop delle proteste nelle stazioni. Ecco qua, la parola d'ordine di oggi è flop. Il flop delle proteste nelle stazioni. Solo le chat ribollono. Una dittatura. Da ieri Green Pass obbligatorio, su treni, aerei, violenze e minacce dei giorni scorsi, si indaga addirittura per terrorismo. Ora, capite, io cosa devo dire? Cerco di darvi uno spaccato, cerco di farvi riflettere sul modo anche in cui viene fatta l'informazione, perché non è così. Allora, al netto di qualche esagitato, al netto di tante persone che dietro la scrivania, davanti a un monitor, o dietro un monitor, si divertono a scrivere di tutto e di più, ma poi tra il dire e il fare c'è sempre il mare, non dimentichiamoci. Al netto di queste persone un po' esagitate, il popolo dei Novax, o dei No Green Pass, che fino a ieri era definito come un popolo di terroristi, addirittura, che meritavano il piombo, vedi Rete 4 e Cazzola, che ha detto addirittura di richiamare un certo generale per far fuori questi contestatori pronti a bloccare le stazioni. Ora, un conto è quello che si dice nelle chat, e qui, siccome lo Stato è poco intelligence, doveva prevedere che non c'era niente di tutto questo, ma comunque, al di là di questo, ha schierato l'esercito ieri, ha schierato Polizia Carabinieri, Guardia Forest, tutti, mancava solo la Capitaneria di Porto, c'erano tutti ieri, a presidiare che cosa? Il nulla. Il popolo dei Novazzi, il popolo del Green Pass, lo dovete capire, non è un popolo di terroristi, è semplicemente un popolo, semplicemente della gente che chiede di essere libera di scegliere che cosa fare del proprio corpo. Punto. Lo Stato vuole obbligarci a fare il vaccino, il popolo del Green Pass vuole semplicemente e liberamente decidere che cosa fare del proprio corpo. Punto. Vuole essere libero, continuare ad essere libero. non è terrorista, non è niente. Tant'è che se voi ricordate bene Pesaro fino a quando si trattava di manifestare con dei cartelli, fare qualche applauso e quant'altro, Piazza del Popolo era abbastanza gremita. Quando un gruppetto di persone si è staccato e andato sotto casa del sindaco di Pesaro, da quel momento il popolo che fino a prima aveva manifestato semplicemente e pacificamente si è staccato, non ha più partecipato a nessuna manifestazione in programma a Pesaro. Perché? Perché il popolo dei No Pass e dei No Vax è un popolo di padri e madri di famiglia semplicemente preoccupati per le sorti per esempio dei propri figli. tanti mi fermano dicendo io sono preoccupato non tanto per me ma perché lo Stato vuole imporre a mio figlio che ha 12 anni il vaccino e io non glielo voglio fare. Questo è il popolo dei No Vax. Quindi quello che vi raccontano i giornali oggi sono semplicemente stupidaggini. Poi è chiaro che c'è l'esagitato, c'è quello che è stato arrestato perché si è steso sul binario oppure ha fatto qualche atto da matto. Ma è chiaro che nel mucchio c'è sempre. Ma il popolo dei No Vax non è quello che vi stanno raccontando i giornali oggi. Protesta flop, siamo sul Corriere Adriatico, stazione blindata, nessun manifestante. E certo, anche io sarei andato anche io sarei andato ieri a manifestare. Ero presente ma solo per lavoro. Ma non avrei mai aderito sapendo che l'intenzione era quella di bloccare dei treni. Ma c'è del penale. Siamo mica fessi, siamo mica scemi. Andiamo a mettere a ripentaglio la nostra vita, anche la nostra fedina penale per che cosa? Andiamo sul Carlino di nuovo di Peso, la pagina interna. Eccola qua, vedete contestatori, la strategia dell'annuncio, nessun blocco in stazione ma oggi si replica. Dovevano bloccare i treni, non si è fatto vedere nessuno mentre le forze dell'ordine erano presenti in gran numero. Per oggi pomeriggio ha annunciato che ci saranno costringendo Polizia, Carabinieri e Finanza a un nuovo presidio. Ma andiamo a presidiare il territorio dai ladri piuttosto che pensare a queste stupidaggini. Ma comunque andiamo avanti. Ecco qua, andiamo qui sulla pagina nazionale. E qui la strategia di chi vuole mettere in cattiva luce e continuare a mettere in cattiva luce i no-vax e i no-green pass, quindi ricordate padri e madri di famiglia semplicemente preoccupati, i giornali che strategia usano. Una strategia che ormai comincia a diventare anche vecchia, però molti non la conoscono e quindi ci credono e la bevono e la prendono per vera. Allora, leggiamo il titolo. Le urla di Greg e le bufale in rete. Ecco chi sono i guru dei no-vax, cioè le menti, quelli che manovrano come se i no-vax si facessero manovrare da questi guru. Assolutamente non è così. I social diventano la gran cassa del negazionismo che è diverso, il negazionista è diverso dal no-vax. Attenzione, le distinzioni sono importanti. Il negazionista è pericoloso perché è colui che dice il virus non esiste. Invece il no-vax non dice che il virus non esiste. Il virus esiste come? E ha anche paura, ma vuole essere libero di decidere se farsi la punturina oppure no. Stessa cosa quelli che sono contrari ai green pass. Non sono negazionisti. I negazionisti invece sono soggetti chiaramente pericolosi perché fanno finta e vivono come se il virus fosse un complotto e non esistesse da nessuna parte. Ma grazie a Dio i negazionisti sono pochi e siccome sono pochi e quando parlano sono un po' come i terrapiattisti, i giornalisti li vanno a caccia perché sono importanti, perché quando trovi un terrapiattista o trovi un negazionista ci vai a nozze, ci fai un pezzo grosso così e lo schiaffi sul giornale e poi lo bolli come Novax. Ecco, non è così. È un giochetto stupido che ormai anche i giornalisti che hanno un minimo di dignità dovrebbero evitare di fare perché non è fare giornalismo. Allora, detto questo, andiamo a vedere l'altra pagina. Ecco, siamo qua, pagina 3. Io dico queste cose e chiaramente so che urto la sensibilità di qualcuno ma finché le posso dire sono e mi consentono e mi permettono di dirle, le dico perché almeno vi fate un'idea. Prof senza Green Pass chiamano il 112. Qui siamo a pagina 3 del resto del cardino di oggi. La preside dell'Istituto Galilei dice si entra rispettando la legge. Afano, direttrice, chiama la polizia per allontanare un docente Novax. Chiaramente cosa devono fare i presidi? Questa è la legge, queste sono le disposizioni e un torto collo devono per forza di cose farle rispettare. ripeto, non so quanto durerà perché sono disposizioni piuttosto onerose, piuttosto complicate ma vedremo poi con il tempo. Intanto partenza a rilento negli istituti con l'app si perde molto tempo, vedete, cioè voi vi immaginate, guardate queste scenette a favore di obiettivo fotografico. Questa è una procedura di controllo del Green Pass al liceo scientifico, vedete? ecco, quindi voi immaginate con tutto quello che c'è da fare quando ci saranno anche gli studenti con tutte le cose che solitamente le problematiche quotidiane che ci sono a scuola ogni giorno questa manfrina di far vedere il Green Pass all'addetto di turno. Cioè solo una mente malata poteva concepire una cosa di questo genere ma comunque il tempo è galantuomo e vedremo. Andiamo sulla pagina di Fano cambiamo argomento per fortuna inquinamento appello al comune siamo sulla pagina dicevo Fanese ora si scopra e si risolva la causa con fartigianato balneari punta alla bandiera blu passi avanti da gigante con la vasca di prima pioggia qui parliamo di un pezzettino di spiaggia quella Fanese che è antistante come dicevamo anche ieri diciamo al mare dell'Arzilla Giuliani sottolinea che le giunte precedenti non hanno fatto nulla per il litorale di Arzilla e quindi insomma diciamo che oggi con questa vasca di prima pioggia le cose dovrebbero andare sicuramente molto meglio poi a proposito di acqua captazioni abusive sul torrente quattro verbali il torrente è sempre lo stesso Arzilla le indagini dei carbinieri forestali individuano un'irrigazione clandestina aumentano i candidati andiamo a Fossombrone invece aumentano i candidati sindaco in corsa adesso sono in quattro si aggiungono Elisa Cipriani per la sinistra e Fabio Londei per una lista civica quattro liste dunque a Fossombrone per le amministrative del 3 di ottobre la rosa è completata dall'assessore della giunta Movimento 5 Stelle Gloria May e da Massimo Berloni lo ricordiamo quindi sono quattro e poi ancora la farmacia di Fossombrone cita per danni il sindaco per il trasferimento autorizzato dalla giunta dell'altro esercizio andiamo sulla pagina 29 del Corriere Adriatico la cronaca bambina di 5 mesi cade dal lettino corse in ospedale grava al Salesi dramma per una giovane coppia di Genga il sindaco Filippone dice speriamo possa riprendersi presto ovviamente sono stati attimi a Fabriano di paura drammatici quelli vissuti da questa giovane coppia di Genga che lunedì pomeriggio ha dovuto effettuare una corsa contro il tempo all'ospedale di Fabriano poi al Salesi di Ancona con l'ambulanza andiamo a vedere se abbiamo ancora qualche pagina la pagina di Fano del resto del Carlino asfalto sulla ciclabile esplode la protesta sul tracciato dell'Arzilla a rischio 20 alberi insorgono un comitato di cittadini e associazione ambientalista le quali chiedono di fermarsi Adriatic Link invece altri passi avanti via la consultazione pubblica il nuovo elettrodotto marino passa sott'acqua a corrente continua sarà realizzato da Terna e avrà il suo punto terminale proprio nella città di Fano Salus Metauro invece in mano ad un gruppo maceratese dopo aver acquistato le terme di Carignano ha preso in gestione anche la struttura di via Madonna Ponte un incontro tra il sindaco Seri e i fanesi nel Mirino ci sarebbe anche il noto albergo delle quattro fonti mentre anche la pagina di Fossombrone del Carlino mette in evidenza il fatto che per quanto riguarda le amministrative le liste per il sindaco salgono a quattro ieri si è giunta la notizia della candidatura di Fabio Londè che è un noto ristoratore ed è stato anche già primo cittadino in un paese vicino che è il paese di Sant'Ippolito poi sotto da Cagli Paolo Viti le occasioni perse per salvare la nostra città di Cagli il consigliere di minoranza se altrove hanno fatto e migliorato vuol dire che c'era la possibilità di farlo e poi lo sport questa breve di sport dove il Fano si regala il fuoriclasse esposito presentato ieri il trequartista che dovrà essere il valore aggiunto di Granata aggregati gli Ander Mainardi e Martignetti e con questo possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa il nostro commento alla stampa del giorno l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla notizia arrivederci Sistema D Modernismo Sistema Grazie a tutti.